Siamo con Cristian Tammone, tecnico della Yamamai Busto Arsizio. Insomma, avete giocato praticamente la prima finale delle finali Under-18. Ne parlavamo anche con Marco Sinibaldi di Chieri prima. Partiamo dal momento, tra virgolette, più brutto della partita. A un certo punto, forse, non dico che stavate pensando di perderla, però Chieri vi stava mettendo in difficoltà. Poi siete uscite pure di nuovo. Ma loro hanno veramente tirato quel set qualsiasi cosa. In battuta fortissimo, ci difendevano qualsiasi cosa. Quindi abbiamo avuto veramente grandi difficoltà a mettere la palla a terra. Quindi tanto di cappello a Chieri perché ha giocato veramente una gran bella partita. Come hai detto tu, come ha detto Marco, che è un amico, è una finale nella finale. Ogni partita qui alle finali nazionali è una finale e va vissuta in questa maniera, con quell'intensità. Loro in quel set sono stati più intensi, più sul pezzo, hanno spinto di più e ci hanno messo in grossa difficoltà. Poi siamo stati bravi, dopo quel set perso male, già a uscirne sul finale del set e poi a ripartire col giusto piglio. Busto dove vuole arrivare in queste finali? Il più in alto possibile. Noi vorrei che si giocasse sempre così, si giocasse sempre così, anzi si giocasse sempre meglio, perché possiamo esprimere un gran bel gioco e possiamo mettere in difficoltà chiunque. E chiunque ci può mettere in difficoltà perché siamo alle finali nazionali, non siamo a un torneo qualunque. Antonio Scalisa, STV. Il terzo set, vinto da ieri, sembravate un po' fuori dalla partita ad un certo punto, soprattutto perché in ricezione guardavate i palloni più che andarli a ricevere. Decisamente, sì sì, questa è la chiave di lettura. Loro hanno fatto molto bene in battuta, hanno preso tutte le linee del campo in quel set e noi abbiamo fatto fatica a uscire da quella situazione. Lì è poi la costruzione dell'attacco, perché comunque con la palla staccata le alzate non erano, chiunque le facesse, non erano precise per mettere in condizione gli attaccanti di fare il miglior colpo. Molti colpi li abbiamo rimessi nel campo avversario e non è il nostro stile di gioco. Ultimo flash con Cristian Tammone, coach di Busto. Siete qui ovviamente per la parte tecnica, per la volistica, per giocare. La mente è lì, però siete in una terra bellissima. Che approccio avete avuto con la Calabria? Ma splendido, devo dire l'organizzazione, sempre puntuale, perché questa mattina siamo arrivati con l'aereo puntualissimi, siamo stati cordiali all'hotel, quindi dal punto di vista dell'organizzazione, stupendo. Ci ha anche accolto una giornata di sole, che mi dicono che è la prima da un po' qui in Calabria, quindi non posso chiedere di meglio, siamo partiti col piede giusto. Grazie, grazie a Cristian Tammone, tecnico della Yamamai Booster Sizzio. Prego e buona serata a tutti.